Con Enrico Daraos che insomma dal ring di Fontana Fredda purtroppo porta ancora i segni di quella domenica infame dal punto di vista climatico perché insomma il risultato era stato anche discreto tutto sommato oggi chiaramente è molto migliore e per di più anche con un tuo gol molto bello Sì, la prestazione della squadra è stata migliore di quella di Fontana Fredda noi contiamo ad allenarci, a migliorare col mister Costantini e i risultati vengono come oggi quando c'è il lavoro, c'è la voglia, i risultati arrivano pian piano Si vede anche l'applicazione in settimana di alcuni movimenti di squadra insomma anche senza palla che si iniziano ad intravedere magari oggi con un pizzico più di precisione in mediana anche nel primo tempo si sarebbe potuta sbloccare questa partita Sì, forse al primo tempo è normale che l'altra squadra come gamba, come corsa sia uguale a noi poi nel secondo tempo rimasti in dieci e noi li siamo andati sopra anche fisicamente sicuramente con San Giovanni, Polo e Paolucci abbiamo un centrocampo di qualità poi con l'aiuto del mister, degli allenamenti riusciamo anche a trovare delle giocate che magari prima non riuscivamo a fare Insomma dal tuo punto di vista personale l'assist per il primo gol, il terzo gol, ti dico così in gran segreto Paolo Condò della Gazzetta dello Sport ospita oggi in tribuna stampa, guarda ho qua i voti che mi ha lasciato a fine partita tu sei l'unico che ha preso sette e mezzo per cui per lui sei migliore in campo, non è cosa da poco Bene, grazie Speriamo di continuare così perché dopo due mesi in chiaro scuro speriamo che sia la svolta questa per far bene e continuare così sia dal punto di vista personale che di squadra Una frase fatta ma che può essere sempre adatta, si può dire era ora Sì, era ora, sì, veramente era ora perché di sì insomma io sono questo giocatore qua non sono quello di questi due mesi un po' apatico così il mister mi ha dato un nuovo entusiasmo e niente io l'ho risposto sul campo speriamo di continuare a farlo quando ne avrò l'opportunità insomma Chiaramente insomma ti auguriamo ovviamente per noi e anche per il pubblico insomma che anche nelle prossime due partite avrà modo di venire a popolare il Rocco e di incitarvi con il consueto calore finalmente anche loro possono uscire dalla Fullland allo stadio con il sorriso cantando come solo loro sanno fatto Sì, cerchiamo con le nostre prestazioni, con i risultati di portare sempre più entusiasmo alla città, ai tifosi e a tutto il resto e niente Nient'altro, non lo sei obbligato No, niente, che vengano allo stadio a tifare Facci qualche altro gol così tornerai al nostro microfono Speriamo, speriamo Grazie Eric Niente